Quasi un miliardo e 800 mila euro per 835 interventi. Tanto serve per il superamento del contesto emergenziale nelle province alluvionate lo scorso 2 novembre in Toscana. È questo quanto richiesto a Roma dall'ultima relazione di Eugenio Gianni inviata lo scorso 8 febbraio, rispettando i tempi di legge, che di fatto conclude il suo lavoro come commissario straordinario per l'emergenza, in attesa di indicazioni da parte del governo su chi sarà quello per la ricostruzione. Di questi soldi la maggior parte, circa un miliardo e cento, serviranno a rifare opere per mettere in sicurezza il territorio e saranno interventi che in molti casi cambieranno per sempre il volto di intere zone. Un esempio su tutti è Vaiano, dove il torrente Trescellere, che era tombato, si è ripreso il suo spazio e gli verrà lasciato anche con la costruzione di un nuovo ponte. Circa 60 milioni sono invece destinati all'immediato sostegno, 5 mila per le famiglie, 25 mila euro alle imprese. Altri 162 milioni serviranno per il ripristino dei servizi essenziali. Se vogliamo mettere al sicuro il territorio, ha spiegato Gianni, questa cifra è necessaria. Anche se, ha chiosato l'assessore all'ambiente, Moni Amonni, la sicurezza assoluta con i cambiamenti climatici non potrà mai essere garantita. I rimborsi per le famiglie, ha sottolineato il direttore della protezione civile regionale Giovanni Massini, non si esauriranno con i 3 mila euro per i quali i cittadini hanno già presentato le richieste, più i 5 mila previsti ora, anche se con tempi più lunghi arriveranno a coprire quasi interamente i danni subiti. Di certo c'è che ora la palla passa al governo, che finora ha messo molti meno soldi della regione.